Il censimento della popolazione diventa permanente, da decennale ad annuale, e per la prima volta sarà effettuato a campione, esclusivamente online. Ogni anno saranno coinvolte circa 1.400.000 famiglie, in 2.800 comuni italiani. A partire da ottobre 2018 e dentro il 2021, tutti i comuni parteciperanno almeno una volta al nuovo censimento. La raccolta dei dati e delle informazioni si svolgerà in due modi. Tramite un questionario online sottoposto a una lista di famiglie campione, tramite un rilevatore che effettuerà le interviste porta a porta in alcune aree del territorio. Le famiglie che fanno parte della lista riceveranno una lettera con tutte le informazioni sul questionario online, che potrà essere compilato accedendo al sito Istat con le proprie credenziali. Per avere supporto nella compilazione, si potrà chiamare il numero verde 800 811 177 o recarsi presso uno dei centri comunali di rilevazione. In alcune aree del territorio, invece, le famiglie avvisate tramite locandina e lettera riceveranno direttamente a casa la visita di un rilevatore comunale, che raccoglierà le risposte tramite tablet. Cosa contiene il questionario? Una sezione Lista e schede individuali, che contiene domande socio-economiche su tutti i componenti della famiglia. Una sezione Alloggio, con domande sulle caratteristiche dell'abitazione, sull'edificio e sulla disponibilità di auto e posto auto. Una sezione Informazioni finali, che contiene domande sulle modalità di compilazione e sui canali di comunicazione. Informare, evolvere, comprendere. Rispondere al censimento è un obbligo di legge. Scopri di più sui nostri siti.